Negli anni 70, in piena guerra fredda, il russo Spaschi e l'americano Fischer giocarono a scacchi la partita dell'ultimo millennio, che durò diversi mesi. Alla fine vinse l'americano, pur bruciandosi per sempre il cervello, ma affermò con quella vittoria la supremazia degli USA anche in quel campo. Quella che si sta giocando nel centro-sinistra, invece, tra Massimo Romano e Danilo Leva, è più semplicemente la partita dell'anno, ma per certi aspetti assomiglia alla sfida tra americani e sovietici. Da una parte, sullo scacchiere, si sono posizionati selle comunisti italiani e socialisti guidati da Danilo Leva, dall'altra rifondazione comunista, partecipazione democratica, movimenti vari con amministratori locali e regionali capeggiati da Massimo Romano. Dopo i preliminari di rito, i due sfidanti si sono seduti l'uno di fronte all'altro per cominciare a muovere i pedoni, ma prima di arrivare alle mosse più importanti ci vorrà tempo. Insomma, la partita potrebbe durare fino al 9 febbraio, giorno fissato per la presentazione delle liste e le sorprese, di certo, non mancheranno. Intanto, Leva, nel faccia a faccia con Romano, ha ribadito che lui continuerà a lavorare per unire e allargare la coalizione ai moderati dell'Udc. Su richiesta dello stesso Romano, ha poi confermato la piena volontà di predisporre un programma alternativo al centrodestra e di fare le primarie di coalizione per scegliere il candidato presidente. Insomma, il PD è pronto a tutto pur di vincere la prossima sfida elettorale. Resta però da definire la posizione di Paolo Frattura, che quella partita l'aveva già vinta un anno fa e sarebbe quantomeno incomprensibile la sua sostituzione. A meno che il generale Leva e il soldato semplice Ruta non abbiano deciso di occupare rispettivamente il vertice della regione e la Camera dei Deputati. Insomma, quel triangolo preannunciato tempo fa, Ruta-Leva-Frattura, potrebbe diventare realpolitik, ma come reagirebbe Paolo Frattura dopo che ha vinto il ricorso elettorale? Intanto, la prima mossa è andata a segno, anche se Massimo Romano non parteciperà ancora al tavolo del centro-sinistra fino a quando la coalizione non accetterà in via definitiva le sue proposte alternative.